Nel nostro piccolo Dico nel nostro piccolo perché l'abbiamo proprio voluto fare questo con alcuni elementi per presentare quello che ritenavamo simbolico per tutta una serie di ragionamenti su Vercelli Ecco in questo caso gli insedimenti rurali sono lì tantissimi, belli, tutti lì, bloccati, degradati E qui c'è già un accenno di questo paesaggio completamente svuotato proprio per esigenze della coltivazione E vedete quanti insedimenti rurali sparsi ci sono, tantissimi Un potenziale enorme Agroturismo, zero Cascine abitate, zero Produzione visibile, zero Il famoso risoscotti, lì l'ho preso sempre in giro viene da Pavia Quella della televisione Ma non viene la Vigevano quando Vigevano è la patria del riso E' l'unica città che ancora ha una borsa del riso Una borsa del riso Nessuno lo sa Tranne alcuni Ecco questi elementi sono svuotati Perché l'agricoltore è sostanzialmente un impiegato di banca Che per la raccolta si prende le ferie Questa è la ricchezza della città di Vercelli Perché per lavorare e per raccogliere basta prendersi le ferie Per il resto si sta nella banca e si lavora per fare un altro mestiere Cioè questo ha prodotto alla fine un paesaggio Di cui adesso nessuno sa bene più cosa, come muoversi La viabilità Svuotata completamente Non si riconosce più questa complessa rete Perché è un paesaggio come lo vedete qui completamente svuotato E ogni tentativo di ripopolare dal punto di vista vegetazionale Articolare questo paesaggio E' stato già tentato E' falito fino all'inizio Ma è falito perché con questa facile scusa Non si può perché il vento, c'è troppo vento E dico certo che si svuota tutto Poi dopo non si può più fare Allora bisogna proteggerli di più Però vedete questa viabilità Come struttura il territorio E come rende parcellizzato, ricco questo territorio Che però quando uno è fuori non lo vede più Perché non è più visibile Il sistema eriguo E qui arriviamo al punto cruciale Il sistema eriguo E' legato ai canali E' il consorzio del fiume Seseo E' uno dei più antichi italiani Con grande tradizione Perciò consorzi che vendevano acqua Sostanzialmente Che però oggi Non ne fanno più tanti ricavi Perché l'agricoltore Ha deciso Perché in abbondanza di questa acqua Ha deciso Di lavorare Spesso in asciutto Perché si lavora in bagnato In asciutto E questo Una decisione Preso una volta per comunità In questo caso Vediamo Ha creato dei Gravissimi problemi Dal punto di vista Del aumento Delle zanzare Che è una vera piaga Poi arriviamo a questo tema Delle zanzare Ecco vedete come Questo sistema eriguo E' articolato E' un sistema Quasi da dire Da mettere sotto tutela To cure Perché uno La può vedere Potrebbe Creare Delle passeggiate Meravigliose Perché sono dei sistemi Dei microsistemi Che funzionano Quasi da solo Invece In semiabbandono Le risaie Il paesaggio Mi è sempre detto Fino all'inizio E' affascinante E' così affascinante Che non c'è mai nessuno Perché è affascinante Dall'autostrada E dal treno E dal libro Ma allora Nel senso Della nostra Convenzione europea Del paesaggio Non è paesaggio Ma senza uomo Perché Per uomo In questo paesaggio Non c'è posto E non può Può anche prendersi Dici cose Di autan Arrivano così Le zanzare Ti mangiano vivo Cioè Non c'è posto Questo è causato Sostanzialmente E qui vedete La lotta Anti zanzare Si arriva Con l'elicottero C'è un'assurdità Dover arrivare Con l'elicottero Come se fossimo In guerra A sparare Su questi Su questi Inseti C'è un consulente Africano Della regione Piemonte Che fa la lotta Anti zanzare Che fa la coltivazione Del libello E così via Che funziona molto bene Perché la libello La mangia talmente Tante zanzare Al giorno Che Potrebbe anche bastare Ma che cosa è successo E qui Vi prego proprio Di tenerlo ben presente Come una decisione A livello Di comodità Di coltivazione Possa creare danni Quasi irreversibili Una volta Cerco di spiegarlo Semplice Si coltivava Le risaie In acqua Inondato continuo Perciò questo Voleva dire Una lavorazione Un po' più difficile Però Avevamo sempre Uno specchio d'acqua Permanente Diminuendo Molto La melma Cioè Quella parte Dove Nascono Le zanzare Che Nascono sostanzialmente Solo ai margini E aumentando Così notevolmente La popolazione Delle libellole Che hanno bisogno Invece Acqua permanente Allora Se la libellola Ha bisogno Di acqua permanente E la zanzara Non ha bisogno Di acqua permanente Perché Ha bisogno Di acqua Fangoso Perciò È Al margine Vi potete Immaginare Cosa è successo E cosa succede Se 3-4 volte All'anno O di più Ogni mese Vengono Abbassate Viene abbassate Il livello Dell'acqua Le zanzare C'è la Multiplicazione A milioni Perché Lasciano lì Le loro Uove Cioè Poi Quando torna L'acqua È un'esplosione Enorme Di zanzare A scapito Delle libellole Che nel frattempo Sono tutti morti Cioè Questo è un sistema Che Spiegare così Uno direbbe Talmente chiaro Talmente facile Tenetela In asciutto Tenetela Sempre bagnata Invece Non è così Perché Allora Quando uno Fa così Non potrebbe Più fare Il bancario Cioè Impiegato in banca Perché avrebbe Bisogno Più tempo Per coltivare Ma come il riso Lì Prodotto lì Quel riso lì Non vale Niente Perché In Marocco In Africa Adesso anche in Australia Lo producono A prezzo Infinitamente Inferiore Questo riso Vale solo Nel momento In cui è un riso Doc Perché un riso Doc Si vende Dici volte Tanto Rispetto a un riso Che viene da qualche parte Dell'Africa Un riso Da consumare Quasi sul posto Cioè Il risotto Di pavia Per dire Questo A qualcuno è entrato Allora Oggi si dice Ricordatevi l'immagine Di Francoforte La mela Prodotto Nella cintura Verde Di Francoforte Viene una volta Alla settimana Venduto Nel mercato Sotto Alla Deutsche Bank Dove vengono venduti Tutti i prodotti Della cintura verde Con sovrapprezzo Perché è chiaro Che uno compra La mela Della cintura Di Francoforte Con un sovrapprezzo Rispetto alla mela Che c'è nel supermercato Ma lo fa volentieri Perché sa Che dà un contributo A quello che Per lui Nel suo tempo libero Diventa importante Qui la stessa cosa Si produce qualità Solo in contesti di qualità Altrimenti non si è credibile Cioè non si è mai visto Un'officina Mal organizzata Sporca Così Che riesce a Produrre qualità Cioè tanto È il biglietto da visita Cioè qui abbiamo Un biglietto da visita Che è esattamente Il contrario Di quello che Ci dà L'idea della qualità Deserto E Zanzare La poca vegetazione Come vedete Sono Alcuni poveri piopi E vedete Questo è il nostro Catasto Della vegetazione Rimasta Quando una volta Intorno a Vraccelli C'erano ricchi piopiti C'erano tanti filari Però sono stati Abbattuti Tutti Per aumentare I chili Di produzione Che poi Oggi non valgono niente Allora Lì abbiamo discusso Con le associazioni Abbiamo fatto Delle riflessioni Abbiamo sentito Alcuni agricoltori I più importanti Per dire Se erano aperti A qualche ragionamento Un po' Innovativo E abbiamo fatto Un discorso Molto semplice Cerchiamo di arrivare Cerchiamo di arrivare Considerare a questo paesaggio Una fabbrica di produzione Dei valori ambientali Non solo una fabbrica Di riso Ma una fabbrica di produzione Partendo da questo concetto Del bosco Del bosco Della foresta Planiziale Che una volta C'era anche A Vercelli Cioè questo Questo immagine Che voi vedete Ma cosa succede? Cosa è successo? Questo era Vecchio immagine Questi sono i primi Insinimenti Una lenta Antroposazione Del territorio E voi vedete Alcuni L'ampliamento Qui nei secoli Datati L'uomo governa L'acqua E così L'agricoltura Avanza Riducendo sempre più L'area naturale Ovviamente Però Voi vedete ancora La strutturazione Siamo Oggi In questa situazione In tempi Più recenti La meccanizzazione Dell'agricoltura Ha giocato un ruolo Fondamentale E ha svuotato Il paesaggio Allora Questo deserto Della monocultura Che domina Oggi Il territorio Non è più sostenibile Nei parametri Dei costi Ma neanche più Sostenibile Da un punto di vista Estetico Perché non produce Più alcun valore Allora Allora Mi hanno detto Se Si vuole andare Verso Un'inversione Di rotta Bisogna cominciare Con i primi Piccoli passi Perciò Concordare Di lasciare Per esempio Con dei convincimenti Con dei piccoli Finanziamenti Con delle piccole Ajustazioni Di convincere Gli agricoltori Lasciare Il 50 60 70 Percento Delle superfici Di acqua Bagnate Permanentemente Reintrodurre L'acqua Permanente Prima Azione E Cominciare A dare Con i finanziamenti Provinciali Che ci sono Già Perciò Non ci inventiamo Niente di particolare Perché ci sono Tutti i finanziamenti Per agricoltori Di arricchire Per la piantumazione Lungo i argini Per il consolidamento Di argini E Alcuni piccoli lotti Della forestazione Come Secondo il modello Delle 10 foreste Della regione Lombardia Che sono diventate 120 foreste Finanziati Che sono Di piccoli tasselli Nel paesaggio Agricolo E poi Il tema Di dare A loro E qui Arriva Da lì Arriva il cerchio La magnifica Carta Della vicinanza Pensate A Francoforte Sempre Di dire Noi abbiamo Dei nuclei Intorno Al centro storico Qui c'è il fiume 1, 2, 3, 4, 5 Che sono Che le abbiamo chiamate Dei motori Di avviamento Che sono Quelle persone Che possono Avere Giocare Un ruolo importante Nella trasformazione Nel guida Delle trasformazioni Perciò Chi dice Io voglio fare Il terziario verde Voglio Trasformare La mia azienda La mia azienda Aprirla All'educazione ambientale Nonostante La produzione Voglio fare Un centro di ricerca Cioè dare A chi Porta Delle innovazioni Dare un bonus In termini In termini di Cubatura Queste erano Le strategie E qui Voi vedete Dall'esistente Tutte le tipologie Dal 1 Fin al 6 Dalla lettura Dell'esistente Vuoto Arricchimento E sviluppo Allora Se riesco A far Sull'argine Far sopravvivere Un pioppo Poi dopo Riesco anche Ampliare leggermente L'argine E far Avere questa Rete ecologica Che mi consente Una connessione I canali Lo vedete I sviluppi Sempre cominciare Nei primi 5 anni Per poi Arrivare dopo Cioè questo Introdurre Il fattore Tempo Nell'attuazione Del paesaggio Perché Non pensare Che questo Sia un discorso D'oggi a domani Allora Come l'abbiamo detto Inizialmente Che il paesaggio È un continua Trasformazione Quello che Piantiamo Oggi Assume valore Domani Allora Noi Siamo in una Felicissima Situazione Perché io I miei primi alberi Nel parco Notti Milano L'ho Piantato Nell'85 Oggi Un pacco Di 6 milioni Di eteri Ed oggi È un valore Enor Sono passati Più di 20 anni Ma Ma questa È una dimensione Direi 5 10 anni Noi facciamo i piani Triennali 5 10 anni 15 20 anni Si comincia E questo era Tipologicamente Visto con L'associazione Di categorie Perciò funzionava E funziona Tutto E vediamo E vediamo Questo piccolo Esempio Di 30 Eteri Questo è un Classico Esempio Di margine Urbano E qui abbiamo Tirato fuori Semplicemente Un segmento Per dire Allora Che cosa Significa Questo Se prendessimo Fuori Questo Segmento Di 30 Eteri Questa è la situazione Attuale Canali Strutturazioni Ed è Un piccolo Filaccio Questa è la situazione Mofologica Come si presenta Oggi Questa è la Cosiddetta Prima fase Nell'inserire Qualche bacina Nella D'acqua Permanente Questa è La seconda Fase Nell'intensificare La rete Intorno E guardate caso Senza modificare L'assetto Qui non si tratta Di Piattire E di mettere Un bosco To cure Sopra E non pensarci più Anzi Si tratta Di Vario Pingere C'è questo Pezzo E guardate Come si può Sviluppare Tutto Legato Finora Con i finanziamenti Questo Già esistenti Questo sistema Può diventare Un sistema Di produzione Uno Due Di valore Anche di Riso Stesso In un contesto Di qualità Dove io posso fare Educazione ambientale Dove io posso fare Tempo libero Dove posso fare La piopicultura Eccetera Eccetera Dove io posso Creare una diversità E ci sono alcuni Ecco vedete Questo è un ambito Di quelle di eccellenza Quello era un ambito Messo In mezzo La campagna Giusto per vedere E questo è un ambito Di eccellenza Dove io Nel momento in cui Adotto Questo sistema E chiaro E qui Cerco di Vederla bene Che io Uno Due Tre Quattro Aree di Espansione Urbanistica Allora Di fronte Ad un tassello E qui parliamo Di circa Duecento Etteri Di un tassello Di questa dimensione Chi lo Promove Che sono Uno Due E tre Ricevono Questo bonus Legato Alla Perequazione Urbanistica Che gli consente Di realizzare Alcune Cubature Perciò Voi Avete visto Questo Tentativo Di Creare Una specie Di green belt Intorno Legato Alle Infrastrutture E Alla Lavorazione Agricola Allora Qui C'è In questo caso Il canale Scolmatore Ed è Se uno Ha un disegno Complessivo Strategico In fondo Tutte le Operazioni Che Si dovranno Fare Sul territorio Possono Convergere Verso Questo Pensiero Strategico Perché Questo Canale Scolmatore Ciò Are 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 Is Proprie Che Sono Esattamente Queste Svilupparli In un Modo Piuttosto In un Altro Indifferente Dal punto Di vista Dei costi Se Invece Viene Sviluppato Secondo I stessi Criteri Fa Sinergia Con Quello Che Intorno Questo Potre Potremmo Potremmo fare Per le strade Perciò L'inserimento Di infrastrutture È molto importante Per le nuove Urbanizzazioni Per il Ricupere Ambientale Ma spesso Accade Esattamente Il contrario Che Ognuno Fa Un Progetto A sé La Messa Insieme Non Produce Quel Effetto Desiderato Qui Giusto Per darvi Alcuna Anticipazione Progettuali Che Sono Finiti Nei Preliminari Poi Di questi Progetti Cioè Attenzione Anche A questo Far Si Che Alcune Cose Del Piano Possono Tradursi Semplicemente In Progetti Di Opere Pubbliche Trasformarli A Preliminari Perché Noi Sappiamo Come Spesso Magro Sono I Preliminari Magro Nel Vero Senso Della Parola Perché Non Contengono Tanti Elaborati Se Poi Un Piano Li Predispone I Progettisti Possono Anche Riprenderlo E Adottarlo E Qui C'ho Una Visione Di Questo Canale Nuovo Canale Scolmatore E Mentre A destra E magari A sinistra Può ancora Rimanere Così Questa Fascia E mezza Adotta Esattamente Questi Criteri Di Lenta Trasformazione Del Paesaggio Agricolo Di Giusto Sulla Tangenziale Nord Un Altro Esempio Per Non Cadere Nella Trappola Di Trattare I Svincoli Io Perso Mentre Chiamo Dei Tombe Dei Cani Gatti Quando Diventano Tutti Svincoli Adesso Diventano Giardini Allora Uno Uno Non si Rende Conto Che Con Una Verazione Buona Distrugge L'immagine Del giardino Uno Non può Adottare L'immagine Del giardino Per Una Rotonda Perché Allora Il giardino Non esiste Più Perché Se io È un po' Una violenza Inodita Sul giardino Come ci sono Delle violenze Inodita Su alcune piante Se voi Fate caso Se io Utilizzo Alcune piante In maniera Non adatta Nei Spazi Degradati Io Mi porto Quest'immagine Di queste piante Quando entro In un giardino Pur bello Vedo queste piante Penso alle ferrovie O le andri Per fare un esempio Al nord Ci sono i coteneasta I symphoricaps Altre piante Che quando uno Li vede Tappezzati Ovunque Quando entra In un giardino Vede queste piante Lì In una posizione Giusta Ma Ha In mente Quell'immagine Di quelle piante Fuori Perciò E' degradante Perciò Attenzione A non Banalizzare Le questioni Per esempio Delle rotonde Che qui diventano Semplicemente Come vedete Dei bacini volani Che possono riempirsi Con un raggio Con un raggio Di tre chilometro E mezzo Noi abbiamo Una superficie Territoriale Complessiva Di otto mila Etri Della città Sono mila e trecentosettantacinque Etri E dalla cosiddetta Greenbelt La cintura verde Sono duemila e sessanta Etri Attono alla città E questo Si propone Come vera Autentica Fabrica Di produzione Dei valori ambientali Purtroppo A Vercelli Non abbiamo trovato Ancora Nessuno In grado Di Calcolare L'effetto Ci vorrebbe Un economista Serio A calcolare Questi effetti Perché in questo momento Vercelli Sta puntando Tutto sulla logistica E il tema Non è più l'agricoltura È la logistica E vedremo Che effetti Quanto tempo Dobbiamo aspettare Chiudo Con la prima parte Con questa immagine Che Ci ha consentito Di ragionare Con i agricoltori Nel momento in cui Abbiamo detto Non avete paura Nessuno Vi vuole Trasformare Appiattire Il vostro territorio Non vuole Fare il bosco Ma Vuole Articolare Come Poteva essere In modo Moderno In modo Contemporaneo Se vogliamo Adottare Una vecchia strategia Perciò Ne abbiamo Dei appezzamenti Di bosco Ne abbiamo Dei filari Ne abbiamo Dei alberi singoli Ne abbiamo I sistemi Delle cascine Magari Con un'acqua Che si Specchiano Nell'acqua E E via Andando Perciò Ne abbiamo Un tessuto Molto Vario E più Vario Siamo Nei paesaggi Più c'è la possibilità Che questo paesaggio Possa Mantenersi Nel tempo Ecco Questo è un po' Una prima Un primo assaggio Si vorrebbe dire Una prima Introduzione Quando Noi abbiamo Fatto questo piano Non si era ancora Parato molto Della Convenzione europea Del paesaggio Ci siamo accorti Un po' Dopo Che c'era Questa discussione Ma non c'era Ancora Questa discussione Ma Anche senza Questa discussione Iniziale Voi vedete Come in fondo Nell'immagine Abbiamo messo La città Come Vi ricordate L'immagine Di Francoforte È molto importante Vedere Il paesaggio Non solo Dalla città Ma vedere Il paesaggio Da se stesso Verso la città Cioè dove Quella Cultura Natura Si formano E Producono Paesaggio Questo Vorrei che Magari su questo tema Se è un primo Break Qualche riflessione Qualche Qualche Comento Perché Un piano Se volete Per certi versi In itinere È lì Noi abbiamo Credo Sufficientemente Pazienza Per lasciarli lì Perché se A oggi Non è maturo Può diventare maturo Tra essere Tra due Tre Quattro Cinque anni Ma La strada Nel bene Nel mare Passa lì Quando poi Gli agricoltori Non sanno più Cosa produrre Perché L'alternativa Sarebbe Quella Della produzione Della biomassa Ma la biomassa Non ti produce Questo La biomassa Alla francese Ti produce Migliaia di eteri In coltivazione Di piopeti E tratta Il piopeti In maniera Violentissimo Anche lì Con Inodita Violenza Li tratta Come il mais Perché Ogni due anni Sfalcia I piopeti Per fare Biomassa Allora Avremmo Perché Loro I francesi Sono venuti lì Chiedendo Mille Duomila Eteri In gestione Per coltivare I piopeti Ma non Per fare Cato Per avere I piopeti Ma per Raccogliere Legno Anno Per anno Allora Questi crescono E poi vengono Questi enormi Macchinari Che sfalciano Tutto E questa biomassa Produce Energia Ecco La trasformazione Del paesaggio Agricolo Se noi Non Dico noi Chi pensa Chi fa Non comincia A promuovere Questi modelli Di diversificazione Passerà Attraverso Ulteriore Monofunzionalizzazione Basta Pensare Al Tema Delle Bababietole E dei Zucrefici Quello che accade In Italia 72 Zucrefici In Italia Chiuso Grazie a una Decisione Dell'Unione Europea Come noi Siamo Europeisti Benvenga Altri Lo sapevano Prima In Italia Si faceva finta Di saperla Nel momento In cui Il decreto Fu firmato Oggi A domani 72 Zucrefici Stanno chiudendo Perché lo zucchero Non ha più prezzo Con l'apertura Del mercato Perciò Vi potete Immaginare Si dice Intorno Sono Sempre Due Tre Quattro Cento Seicento Etri Se non Mille Etri Di Produzione Di Bababietole Con i macchinari Molto intensivi E così via La chiusura Di questo Che crollo Fa Sul paesaggio Agrario Cioè Cosa fare Adesso Cosa Produrre Lì Perciò La nostra Decisione Dipende Non solo Da noi Ma dipende Molto Dalle decisioni Altrove Perciò Più siamo Preparati Avere Dei Puffa Delle possibilità Di diversificare Meglio è Allora Sono due opzioni Uno potrebbe attuare Il privato Con i soldi pubblici Perché i fondi Del piano provinciale Agricoltura I FIS Cioè I soldi ci sono E Loro per Allora Sotto il tema Consolidamento Dei argini Creazione Di nuova vegetazione Deci foreste Del Piemonte Ci sono Diciamo Noi abbiamo individuato Fino a 10 titoli Di spesa A quale si potrebbe Attingere Questo Presuppone Però Che L'agricoltore Abbia voglia Di passare Dal puro Netto Agricoltore A Cultore Della materia In senso Di Diventare Un Un Attivatore Del paesaggio Cioè Come tale Viene anche pagato Riceve Ma viene anche Pagato Per questo Perciò Se lo fa Sui terreni Dei privati O al margine Lo fa il pubblico Queste operazioni Sono destinati a morire Perché poi Noi dobbiamo coinvolgere Chi coltiva il territorio Con Integrazione al suo lavoro Primo La leva La leva Era quella Del cosiddetto Bonus Se tu Fai Questo Visto che Niente Per quello L'abbiamo Chiamato Una specie Di Non abbiamo utilizzato Tutto il territorio Di Vercelli Ma l'abbiamo detto Questo qui È una soglia critica Dei 3,5 km Perciò Questi qua Possono avere E hanno intressi Là Qua Là Allora Se tu Mi crei Vedete Questi Famosi centri Uno Qui Terziario verde Pesca sportiva Tempo libero Idea verde Ristorante E così via Qui Produzione Uno Due Tre Quattro Cinque Io Intorno Ho cinque Che è chiamato Motorini Di avviamento Che sono I Interlocutori Privileggiati Cioè Che ricevono Di fronte Al loro impegno Nella convenzione Da sottoscrivere Ricevono Un bonus Da attuare Qui al macine Vai Un bonus Grazie a tutti.